Complice la bella giornata di sole, 15.000 persone hanno salutato le Befane riminesi. Dal primo pomeriggio del 6 gennaio, bambini e adulti hanno dato il benvenuto alle vecchine, che non hanno mancato di regalare sorrisi, sdentati e caramelle. L'appuntamento con la Befane a Vien dal Mare era a Piazzale Boscovici, sul molo di Rimini. Alle 15, sui mezzi navali della Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Marittima e Lega Navale, sono arrivate le Befane vestite di tutto punto. Il vice sindaco Gloria Lisi, l'assessore Jamilsa De Golvad, la consigliera regionale Nadia Rossi, la presidente dell'AIA, Patrizia Rinaldis e Stefano Vitali. Momenti di gioco con il laboratorio di realizzazione degli Aquiloni e musica con i Rangzen. La merenda ha permesso di raccogliere fondi per la casa emergenze a Marcordo di Rimini, che accoglie minori in difficoltà. Questo è praticamente il quarto anno, quindi ormai siamo rodati, è diventato un appuntamento classico ormai, diciamo. La cosa positiva di quest'anno è che ci dicono che oltre ad avere una grossa partecipazione dai riminesi, o comunque ci sono ancora moltissimi turisti che si sono fermati per vedere la Befana, quindi secondo me è un grosso successo sia per Rimini un mare che per l'amministrazione. La manifestazione si è conclusa quando la Befana si è congedata lasciando ad un angelo la consegna di oro, incenso e mirra ai remagi, che si sono poi imbarcati sulla nave storica Marcord per raggiungere il Ponte dei Miracoli, accompagnati da legionari romani a cavallo. a conf a conf le i Grazie a tutti. Grazie a tutti.